Ciao ragazzi, come va tutto bene? A nulla alla grande, indovinate perché? In realtà noi siamo napoletani, siamo italiani, prima napoletani e poi italiani e ci manca la pizza Quindi qual è un posto dove effettivamente si può mangiare la pizza napoletana a Londra? Napoligna, napoligna, napoligna Da Michele, dove si trova Michele? Si trova nel quartiere di Merlebone In pratica appena uscite dalla stazione di Bon Street Bon Street o Bavis? Bon Ah questa è Bon Street In che senso? Questa è Bon o Bavis? Bon Bon Street E come potete vedere? Spostati un pochino E questa è musica per le mie orecchie Papà, schiacciate che l'impasto, vai fratello È una pizzeria gestita ovviamente da italiani Si appena è entrata in pratica ci sa il cameriere è l'italiano, il pizzaiolo che è l'italiano Oddio no, tutti i napoletani si è meno bravo Si si credo che siano napoletani, no guardavo la pizza Lei si sta preoccupando che la pizza sia forse troppo piccola No, 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 in realtà no Sono fatte bene e da napoletani quali siamo garantiamo il fatto che effettivamente È fatta bene È fatta bene Tra l'altro Michele a Napoli è una garanzia È molto, molto, molto rinomato come nome Quindi è assolutamente da provare Poi dopo magari vi facciamo vedere la granessa della pizza e tutto Perché all'altro io ho trovato Sassice e Friarie No, se prevedete non so, buoni po' era a te No, 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 ma sicuramente erano buoni Ah, l'altro, l'altro È una questione non solo di mancanza Ma certe volte quando uno vive all'estero Hai l'esigenza un po' di sentire L'area di tazza L'area di tazza No, ci sta quella disquisizione infinita tra La disquisizione infinita tra la pizza romana e la pizza napoletana Cioè, ragazzi, ho tutto il rispetto del mondo, eh La pizza è la tannata La pizza, la vera pizza E c'è un disco volante Cioè, quella flaffi Quella morbida morbida Che si mangia, no? Il biscotto che si Non me ne vogliate per questa cosa È una questione di gusti Sì, perché effettivamente a noi ci piace pure la pizza di Lominos Se è per questo E la preferiamo a pizzate, giusto? Sì, sì Però No, non si può mettere a pari con la pizza disco volante Rispetto alla pizza napoletana No Sì, avete voglia di pizza Bolla P maiuscola Insomma, sapete dove dovete venire Ha fame Come? Por favore Ha fame Vabbè, ci vediamo dopo Vi facciamo vedere la pizza Ed ecco qua finalmente È una pizza salsiccia e frerelli È una pizza margherita Una pizzetta Una pizzetta Guardate qui questi sì I frerelli a Londra Ma che ci manca più qua? Sarà buona? O non sarà buona? Ragazzi, è proprio la pizza di Napoli È buonissima Non lo so Non lo so E allora? È all'uno Che ne pensi? Perché? Bellissimo Cioè, in che senso bellissimo? A me è piaciuta tantissimo Ma proprio tanto La pizza? Sì E anche l'ambiente Sinceramente Cioè, nel senso Sembra di stare a Napoli Sì, ma non sembra di stare a Napoli da Michele a Napoli No Che sinceramente io non ho mai apprezzato più di tanto Anche se è famosissimo A livello mondiale Perché ci sono state Personalità dello spettacolo Ma anche della politica Tipo c'è stato Obama C'è stato un cazzino di persone Tant'è che a Napoli ci sta una fila chilometrica Ogni giorno Ogni ora E diciamo Il servizio non mi è mai piaciuto particolarmente Ma invece qui Ineccepibile Bellissimo Pensate che Il cameriere Cioè, no Il cameriere credo fosse tipo il metro C'è anche Servito l'acqua Sì, sì Infatti E poi una cosa molto bella Ecco A differenza di Napoli Paradossalmente È che a Napoli Michele fa solo due pizze Margherita e marinara O almeno da quello che ne sappiamo noi Perché No, no Io sono certo Io non ci vado da No, io ci sono andato solo due volte E per due volte mi sono intossicato Tra l'altro Proprio perché È un servizio troppo veloce Un'attesa lunghissima Allora È poca selezione delle pizze Quindi Il servizio è ottimo La scelta delle pizze c'è Perché c'erano Per esempio Margherita, marinara La pizza con la citerice d'ara Il calzone fritto Quello al forno Ma che memoria Che memoria Il calzone fritto Quello al forno E la pizza con salsicce franelli Quindi ottimo Io appena ho visto la pizza Salsicce franelli Non ho capito niente E quindi Come avete visto Abbiamo ordinato Una pizza da salsicce franelli E una margherita Abbiamo fatto a metà A parte che tutti Nel ristorante Nella pizzeria Si sono meravigliati Di come io e Giuliana Potessimo mangiare due pizza Allora scusate Ma noi a Napoli Siamo sempre abituati a prendere Una pizza Io e una pizza di Antonio Come tutti penso Beh Evidentemente Qui invece A Londra Prendono una pizza E se la dividono in due Questione di stile Sì E di stomaco Soprattutto Cioè io con mezza pizza Non mi sazio No Anch'io sinceramente Mi sembra una presa in giro Vabbè Comunque la pizza Una presa in giro Per che cosa? Per lo stomaco? Sì Perché noi non ci fermiamo Fin quando Non ci sentiamo sazi Noi siamo sì Che siamo temerari Siamo ossiduri Comunque Allora la pizza Era squisita L'impasto Era morbidissimo Era buonissimo Gli ingredienti Erano di prima scelta E si sentiva E la cosa E questa è la cosa I friarielli Cioè a Londra Impossibile Cioè in Italia Vabbè mi sono importati Ma Eh ma in Italia Se già vai Tipo da Napoli Ti sposti a Benevento Non sanno che cosa sono I friarielli Non sanno della stessa cosa E beh è incredibile Pensare che comunque Ecco qui a Londra Si possa avere una pizza Praticamente Uguale a quella napoletana Sì sì Infatti Cioè proprio è una cosa Incredibile Il fatto che Cioè non si sente Assolutamente La mancanza Almeno sotto questo aspetto Della propria città E parlo da napoletanissimo E Quanto costa Mangiare la pizza Pazzo questa è scesa a piedi Una McLaren In passata Allora Vabbè Diciamo che I prezzi Non sono proprio Rispetto a Napoli Bassi Rispetto a Napoli Chiaramente Sono alti Nel senso che Da Michele a Napoli Una pizza costa 4 euro 3 euro e 50 Penso Non di più Sì sì Qui Una pizza costa 10 sterline Quindi Infatti Infatti Diciamo Due pizze Due pizze Di cui La mia Salsicce e frenerelli Con una mozzarella Provola di Agerola Costava 14 sterline Mentre invece la tua 9 sterline e 99 Cioè allora abbiamo preso No 10 sterline e margherita Abbiamo preso Questa margherita La Salsicce e frenerelli E una bottiglia d'acqua 32 sterline e 80 Però Però Benedetti Nel momento in cui Uno ha voglia di sentirsi Un poco a Napoli Soprattutto mangiare Una pizza Che non sia la classica Come Dominos Pizza Hut Che per l'amor di Dio È buonissima A noi piace tantissimo Però è di lenza Un po' più all'americana Quella pizza Perché invece La pizza partenopea Insomma La pizza proprio italiana La trovate Lì Esattamente Proprio in quel posto Questo è lo scontrino Vedete un po'? Sì Pizza Salsicce e frenerelli 14,95 Pizza Margherita 10 Acqua frenerelle 3,90 E poi coperto 4 sterline Eh Però Tanto si paga Tanto si ha Diciamo che è comunque Da pizza pagato lo stesso Sì infatti Cioè diciamo È lo standard Londinese Londinese Per quanto riguarda il prezzo Qualità Top 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 Vabbè Ci vediamo nel prossimo video Ciao 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 describing For Als